Sono Claudio Masini, socio fondatore e presidente di Quix. Quix è una società nata a Modena nel 2000 specializzata in consulenza informatica. Per noi l'innovazione è il motore trainante del nostro business. Fin dalla fondazione la nostra missione è stata quella di prendere la tecnologia e portarla dal mondo della ricerca al mondo industriale. L'incontro con la rete alta tecnologia dell'Emilia Romagna è avvenuto tramite il laboratorio accreditato Data River e tramite Aster. Insieme abbiamo realizzato dei prototipi per due prodotti Query e Qform che oggi commercializziamo con successo. Penso che per le altre PMI come noi sia importante fare affidamento sulle opportunità che la regione è in grado di offrire per permettere di uscire dai propri confini e puntare a obiettivi più grandi.